Il messinese Alberto Urso, 21 anni, è il vincitore dell'edizione 2018 di Amici, il talent show di Canale 5. Il 21enne tenore è riuscito a sconfiggere la concorrenza degli altri finalisti. La canto-autrice Giordana Angi è invece arrivata a seconde, ballarini Raffel Castro, terzo e Vincenzo Di Primo Catanese, posizionatosi quarto. Alberto ha conquistato il pubblico con la sua gran voce, ma soprattutto con la sua semplicità e grande umiltà. Prima di approdare ad Amici a 13 anni, aveva già partecipato alla trasmissione di Rai 1, condotta da Antonella Clerici, «Ti lascio una canzone». Qui ha anche duettato con Gianni Morandi nel brano «Tu che mi hai preso il cuore». Dopo la parentesi televisiva del 2010 sulla rete ammiraglia della Rai, Alberto è tornato ai suoi studi e si è diplomato in teoria e solfeggio al Conservatorio di Messina. Ha conseguito anche una laurea magistrale in canto lirico al Conservatorio di Matera. A Messina la finale che ha incoronato Alberto Urso, vincitore di Amici, è stata seguita da migliaia di persone a Piazza Duomo e a Piazza Cairoli, dove sono stati installati i maxi schermi. Dal palco di Piazza Duomo il sindaco De Luca ha colto l'occasione per invitare a Messina Maria De Filippi e tutto il cast di Amici. Chissà se la regina Maria accetterà l'invito, nel frattempo i fan di Alberto sanno già che potranno incontrarlo il 30 maggio alle 17 al centro commerciale Tre Mestieri di Messina.